La sicurezza del Made in Italy è un roadshow che Asso Sicurezza ha organizzato con alcuni suoi associati. Parliamone con gli attori. Chiedo ad Andrea Cuttica, Business Development Manager di Cias Elettronica, obiettivo di questo roadshow è fornire ai partecipanti gli strumenti di conoscenza per una corretta progettazione, realizzazione e utilizzo dei sistemi di sicurezza. Lei è uno dei partner. Che applicazioni ha presentato? Oggi Cias vuole portare in questo evento di Asso Sicurezza la reale integrazione dei prodotti. Oggi presentiamo nuovamente il prodotto Synapsys che è l'integrazione tra tecnologia video e tecnologia di protezione perimetrale. Vogliamo investire in consapevolezza perché la reale protezione del perimetro non è esclusivamente una singola tecnologia ma è l'integrazione. oggi più aziende sono intervenute in questo evento di Asso Sicurezza per dimostrare dove l'integrazione al futuro delle aziende italiane sta andando. Nella collaborazione di diverse tecnologie ci permette di ottenere, per quanto riguarda gli impianti installati, una reale funzionalità nella parte di sicurezza perimetrale, efficienza con un basso numero di allarmi impropri. La tecnologia Deep Learning di Synapsys permette oggi di riconoscere e identificare gli oggetti, le cose, le persone per escludere tutti quelli che sono gli eventi non desiderati, quindi gli oggetti non desiderati, lungo il nostro perimetro. Cias storicamente dal 1974 è leader nelle tecnologie di protezione perimetrale e anche oggi vuole portarsi a quello che è l'evoluzione e il futuro di una tecnologia perimetrale. Ti ringraziamo per l'ascolto del podcast Sex Solution. Ti aspettiamo per i prossimi episodi.